Il primo maggio, giornata simbolo del lavoro e dei diritti dei lavoratori, assume quest'anno un significato particolare per Brindisi. La città, che ha tanto contribuito al benessere energetico del Paese, si trova ora di fronte alla sfida di reinventarsi in un'ottica di sostenibilità ambientale e di giustizia sociale. Nel contesto del recente G7 a Torino, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratina, ha sollevato un punto cruciale per il futuro energetico dell'Italia, la possibile anticipazione della chiusura della centrale Federico II di Brindisi. Questa dichiarazione ha acceso un dibattito sulla transizione energetica e sulle sue implicazioni per il tessuto produttivo e occupazionale di Brindisi. La centrale, che ha svolto un ruolo chiave nella sicurezza energetica nazionale, potrebbe cessare la sua attività prima del previsto, ovvero prima del dicembre del 2025. Questa prospettiva pone l'accento sulla necessità di identificare alternative sostenibili che possono garantire non solo la continuità produttiva, ma anche la salvaguardia dei livelli occupazionali. Le alternative discusse si concentrano principalmente sull'energia rinnovabile e sulla cantieristica navale, con particolare attenzione allo sviluppo dell'eolico offshore, la transizione verso un futuro energetico più pulito e sostenibile, un percorso complesso che richiede la collaborazione tra governo, industrie e comunità locali. È fondamentale che questo processo sia accompagnato da piani di sviluppo concreti e da misure di supporto per i lavoratori e le loro famiglie affinché nessuno venga lasciato indietro. Le dichiarazioni del ministro Picchetto Fratin hanno messo in luce l'urgenza di una transizione energetica equa e inclusiva. Brindisi si trova ora al centro di una discussione nazionale che potrebbe definire il futuro dell'energia in Italia, un dibattito che sarà seguito con grande attenzione nei prossimi mesi.